ciao ragazzi bentrovati allora nuovo video il video in questione riprende il discorso sui film che mi sono piaciuti quest'anno e allora non perdiamo tempo subito terzo film mi è piaciuto quest'anno The Greatest Showman un film del 2017 con protagonista Hugh Jackman. Hugh Jackman interpreta l'imprenditore statunitense Barnum chi è questo Barnum? Barnum è appunto un imprenditore e lui nel 1842 in America a New York ha creato l'American Museum una sorta, ha aperto questo American Museum in centro a Manhattan una sorta se vogliamo dire di museo delle cere di adesso e perciò c'erano queste persone appunto in cere imbalsamate e anche dei animali imbalsamati ma non ebbe un gran successo questo American Museum e poi lui fu anche sfortunato perché questo museum bruciò due volte e lui nel 1872 invece fondò il The Greatest Showman of Art il praticamente più grande spettacolo del mondo. Pensate che questo questo diciamo circo aveva tre piste e quattro palcoscenici e poteva ospitare fino a 20.000 persone perciò una cosa grandiosa e questo Barnum la capacità di questo Barnum qual era? Era che appunto da questa evoluzione che ha voluto fare da questo museo delle cere che non andava tanto bene ha avuto questa idea di portare, il suo sogno era di aprire questo mega circo questa mega struttura che richiamasse tantissima gente e le attrazioni principali erano gli animali e poi i cosiddetti diciamo fenomeni da barracone. Lui prendeva queste persone che avevano dei difetti fisici e li portava a essere protagonisti dello spettacolo. Poi diciamo che alcune volte mi illantava un po' perché magari diceva che c'era non so, leggendo la sua storia, che c'era la sirena delle isole Fiji ma sarà stata proprio così oppure la donna più anziana del mondo, però indiscutibilmente bisogna ammettere che aveva delle grossissime capacità perciò dopo aver fondato l'American Museum e il più grande spettacolo del mondo lui si mise in società con un altro imprenditore circense, un certo Bailey e fondarono il Bailey e Barnum Circus e alla morte di Barnum questo Bailey a sua volta fece una collaborazione con i fratelli Ringling e praticamente dagli inizi del 1900 crearono questo circo immenso, il The Ringling Brother e Bailey e Barnum Circus perciò una cosa stratosferica, grandiosa e calcolata che ci lavoravano nel circo più di mille persone perciò era una roba pazzesca e questo spettacolo di questo circo in società è andato avanti fino a maggio del 2017 quando il Barnum e Bailey Circus ha chiuso definitivamente i battenti per vari motivi e nel film The Greatest Showman Hugh Jackman interpreta alla perfezione questo Barnum e si vedono tutte queste cose della vita di Barnum che io vi ho detto e poi essendo un film il regista ci ha messo anche del suo creando magari altre storie e Hugh Jackman fa una grandissima interpretazione e c'è anche Zac Efron che interpreta diciamo un socio di Barnum però il nome l'hanno cambiato, la storia è un po' diversa l'hanno incentrata più, il regista ha voluto far vedere la storia di questo Barnum come ha fatto a creare questo impero, il suo genio, i suoi pensieri, la sua mente come lavorava per far sì perché voleva attirare tutte queste persone e poi ci ha messo del suo essendo un film però da ammirare, bellissimo film, le musiche bellissime e appunto Hugh Jackman oltre ad essere un grande attore lo dimostra qui ancora una volta nelle doti canore e che ci ha fatto vedere anche nei Miserabili se vi ricordate un altro musical i musical, ve l'ho già detto, non mi fanno impazzire ma questo è molto bello perché dopo chi vuole rivivere le gesta di questo padre fondatore se vogliamo dire del circo, il circo è nato diciamo grazie a lui grazie alle sue idee, dopo lui era molto bravo e nel film si vede parecchio ad attirare la gente riempiendo la città di questi cartelloni, questi slogan, questa pubblicità perciò grandissimo film adesso vi faccio vedere l'edizione che ho perché ne ho praticamente due uno è questa, l'edizione Steelbook esclusiva Amazon che potete vedere Hugh Jackman che interpreta Barnum qui Zac Efron con un'altra trapezista e poi ho l'edizione inglese con l'audio italiano Zabby ed ecco qui, questo è proprio adeguato al titolo del film perché vedete proprio il tendone che riprende in toto il circo The Greatest Showman il tendone aperto che vi invita letteralmente ad entrare e questa edizione è edizione due dischi contiene un booklet con alcune foto di scena e ci sono praticamente i testi musicali se volete cantare perciò niente ragazzi io, chi non l'aveste visto, lo consiglio veramente bello noi ci vediamo, vi ricordo ancora in settimana per gli altri due video ciao ragazzi, grazie per avermi seguito buona giornata